Dimmi un po', qual'è la capitale d'Italia? Roma Della Francia? Madrid Dell'Inghilterra? L'Inghilterra Della Spagna? Della Spagna? Madrid Del Portogallo? Tribuna Dell'Irlanda? L'Irlanda? Pina Dell'Islanda? L'Italia Della Norvegia? Odolo Della Svezia? Cazuma Della Svizzera? Benna Dell'Austria? Pina Della Germania? Lino Della Francia? Bologna Della Grecia? Cina Della Bulgaria? Cobia Dell'Ungheria? Uga Della Danimarca? Atem Dell'Olanda? Atem Amsterdam Atem Degli Stati Uniti d'America? Occitane Della Cina? Cina Del Giappone? Gocchio Del Bangladesh? Cacca Della Capitale di Tahiti? Qual'è la Capitale di Tahiti? Papete Brava Dimmi una cosa Giulia, ma tu quanti anni hai? Anni e mezzo E fai vedere con la manina quanti anni hai? Anni e mezzo E quando sei nata? Anni e mezzo E dove sei nata? Anni e mezzo Saluta Ciao Ciao Grazie.